Pace e bene a tutti i nostri telespettatori, i titoli di questa edizione del nostro telegiornale. Non credere alle false promesse del tentatore. All'Angelus, Papa Francesco, riflette sul duello tra Gesù e il demonio. Il Papa ad Ariccia per gli esercizi spirituali, le meditazioni affidate al sacerdote Monsignor Angelo De Donatis. Il Papa totale ha saputo sorprendere tutti i suoi fratelli. Sul sole 24 ore di domenica 9 marzo, Monsignor Bruno Forte ripercorre il primo anno di Papa Francesco. Liberate le 12 sore di Malula, la Tivul Al-Arabia aveva già annunciato il rilascio e le religiose sono in viaggio verso Damasco. La chiesa caldea in soccorso degli sfollati di Falluja e Ramadi. Passiamo subito al primo titolo. Non credere alle false promesse del tentatore. All'Angelus, Papa Francesco, riflette sul duello tra Gesù e il demonio. Niente argomenti con Satana, ma sempre difesi dalla parola di Dio e il monito, ma anche la sfida proposta da Papa Francesco per i 40 giorni che conducono alla Pasqua. Nella Catechesi prima dell'Angelus di questa domenica mattina di Quaresima, in piazza San Pietro, grimita da oltre 100.000 fedeli, il Papa si è soffermato infatti sul duello tra Gesù e Satana, presentato dal Vangelo della Domenica, in cui Cristo, prima di iniziare la sua missione pubblica, affronta apertamente il demonio nel deserto. Un duello in loro, combattuto a colpi di citazione della Sacra Scrittura, osserva Bergoglio, durante il quale il tentatore cerca di distogliere Gesù dal progetto del Padre, ossia dalla via del sacrificio, dell'amore che offre se stesso in espiazione, per fargli prendere una strada facile di successo e potenza. Satana, pur di distogliere il Messia dalla croce, gli fa presenti le false speranze messianiche, ponendogli davanti il benessere economico, indicato dalla possibilità di trasformare le pietre in pane. Lo stile è spettacolare e miracolistico con l'idea di buttarsi giù dal punto più alto del Tempio di Gerusalemme e farsi salvare dagli angeli. E infine la scorciatoia del potere e del dominio in cambio di un atto di adorazione. Sono i tre gruppi di tentazioni, anche noi li conosciamo bene, evidenzia il Santo Padre. Gesù, invece, respinge decisamente tutte queste tentazioni e ribadisce la ferma volontà di seguire la via stabilita dal Padre. Senza alcun compromesso col peccato e con la logica del mondo. Notate bene come risponde Gesù, soggiunge il Papa a braccio. Lui non dialoga con Satana, come aveva fatto Eva nel Paradiso terrestre. Gesù sa bene che con Satana non si può dialogare, perché è tanto astuto. Per questo Gesù, invece di dialogare come aveva fatto Eva, sceglie di rifugiarsi nella parola di Dio e risponde con forza di questa parola. E ogni risposta con cui il Signore controbatti il diavolo traccia una via utile per i cristiani di oggi, per affrontare lotte e tentazioni quotidiane. Il non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Di Gesù sottolinea, infatti, Francesco, ci dà la forza, ci sostiene nella lotta contro la mentalità mondana, che abbassa l'uomo a livello dei bisogni primari, facendogli perdere la fame di ciò che è vero, buono e bello, la fame di Dio e del suo amore. Passiamo al secondo titolo. Il Papa d'Ariccia per gli esercizi spirituali, le meditazioni affidate al sacerdote Monsignor Angelo de Donatis. Domenica 9 marzo 2014, alle ore 16.05, Papa Francesco, insieme alla Curia Romana, si è dedicato ad Ariccia, una delle località più conosciute e popolari dei castelli romani, per seguire gli esercizi spirituali di Quaresima. Francesco è partito in pullman dal piazzale Petriano, antistante all'aula Paolo VI in Vaticano, insieme a 82 persone. Con loro si sono aggiunte una trentina di persone, tra detti di servizio e della sicurezza. Papa Bergoglio ha voluto con sé solo i collaboratori più vicini, né quindi segretari particolari, né gli aiutanti di camera. Un gruppo di fedeli si era radunato in piazza del Santo Uffizio per salutare i due bus, uno più grande e uno più piccolo, con a bordo il Pontefice ed i presoli curiali, diretti alla residenza dei Paolini, casa di Vin Maestro. E' questo un luogo immerso nel verde, abitualmente deputato a ritiri e incontri religiosi, tanto che nel bosco circostante, uno scultore locale ha costruito anche le stazioni della Via Crucis e i misteri del rosario, per favorire momenti di orazione. In queste oasi di spiritualità, Bergoglio, celebrerà il suo primo anniversario di pontificato. I cardinali e i vescovi dovranno pagarsi la camera, contrariamente a quanto avveniva negli scorsi anni, in cui, svolgendosi gli esercizi spirituali in Vaticano, avevano assicurato un vite alloggio. Le predicazioni sul tema della purificazione del cuore sono affidate quest'anno al sacerdote Monsignor Angelo De Donatis, parroco di San Marco, evangelista al Campidoglio. Il Papa totale ha saputo sorprendere tutti i suoi fratelli. Sul sole 24 ore, di domenica 9 marzo, Monsignor Bruno Forte ripercorre il primo anno di Papa Francesco. Un anno con Papa Francesco. Che cosa ha detto e che cosa dice a tutti noi? Scrivevo queste pagine il giorno dopo la sua elezione a Vescovo di Roma. La Chiesa non cessa di sorprendere in appena una giornata. Ecco il nuovo Papa. Un segno forte di unità, un messaggio lanciato al villaggio globale. Questo il 14 marzo del 2013. E aggiungevo L'attesa del mondo intero, le immagini eloquenti più di ogni parola della folla in piazza San Pietro e del nuovo Papa affacciato con semplicità e stupore su Roma e sul mondo. Fanno comprendere ciò come è avvenuto che abbia un significato che va al di là della comunità cattolica e dello stesso popolo dei credenti. Come fece allora, a distanza di un anno, proverò a guardare a lottare i successori di Pietro, muovendo da diversi angoli visuali, di cui il primo non può che essere quello della fede. Francesco, Giorgio e Mario Bergoglio, si è manifestato perciò che è un uomo dalla fede profonda, espresso in uno stile di vita semplice, austero, vicino ai poveri, capace di irradiare e suscitare amore. Questo Papa, che si presenta con un insarmante buonasera e chiede al suo popolo che preghi su di lui prima di dare la benedizione urbite e torbi, ha saputo e voluto essere anzitutto il vescovo della chiesa di Roma, che annuncia e alimenta la fede portandosi addosso l'odore delle pecore. I suoi incontri con i preti e la gente della città eterna, le sue visite alle parrocchie, i gruppi di fedeli che dalle singole comunità romane vanno a turno a partecipare all'eucaristia da lui celebrata a Santa Marta, danno al suo pontificato uno squisito spessore pastorale e fanno riscoprire al mondo quello che anzitutto è un Papa, il vescovo della chiesa di Roma, che per disegno divino presiede nella carità a tutte le chiese. Lungi dallo sminuire l'autorevolezza, questo carattere è fortemente pastorale, anche nei confronti delle altre confessioni cristiane, e in generale più vicino al cuore delle donne e degli uomini in ogni parte della terra. Non di meno Francesco ha saputo valorizzare la sua identità di primo Papa, che viene dall'America Latina, il continente più alto di numeri dei cattolici, ma anche con situazioni drammatiche di povertà e di disuguaglianza. Se come ha detto la sera delle elezioni, i cardinali sono andati a prendere il nuovo vescovo di Roma alla fine del mondo, questa fine del mondo non è mai stata dimenticata da lui. Francesco si è fatto continuamente voce di tutti i poveri della terra, richiamando l'attenzione sulle tante situazioni che attendono giustizia e cammini di liberazione. La gente lo sente come un padre e un fratello, un servitore degli umili, un amico dei piccoli, ai quali riserva tenerezza e profondo rispetto. È il Papa che sa parlare di un Dio che è amore a qualsiasi realtà marcata, dalla povertà e dalla sofferenza. È l'evangelizzatore infaticabile della misericordia divina, specialmente nei confronti di chi possa sentirsi giudicato o escluso da questo sguardo di amore infinito. Il suo sorriso e la sua semplicità dei suoi gesti riescono a ricordare o a far riscoprire come raviglia a tutti che Dio raggiunge ogni cuore e parla tutte le lingue ed è vicino ad ogni dolore, perché la sua è la lingua dell'amore. Questo Papa annuncia così il valore immenso e la dignità della persona umana, senza bisogno di ricorrere espressioni difficili da capire, levando un inno alla vita con l'eloquenza dei gesti e la carica di affettuosa prossimità che trasmette, tessendo con decisione ed umiltà, come il poverello di cui porta il nome, pati di pace fra gli uomini. Perfino commovente il rapporto di amicizia di Francesco con il popolo ebraico, proseguendo in tutto quanto aveva già fatto a Buenos Aires, egli è andato mostrando come la relazione con i figli di Israele sia una priorità nel suo cuore, un modo visibile di amare Gesù di Nazareth, ebreo per sempre, nel popolo eletto e nella missione che, secondo l'apostolo Paolo, esso conserva fino alla fine dei tempi. Anche i cristiani non cattolici mostrano di guardare a Francesco con singolare simpatia e interesse, perché si presenta loro come un fratello, il vescovo della Chiesa che presiede nell'amore, deciso a evangelizzare con un nuovo slancio anzitutto Roma, e proprio così a offrire un servizio di testimonianza e di carità a tutte le Chiese. Era quanto da anni il dialogo ecumenico e l'eclisiologia del Vaticano II chiedevano nel pensare a un ministero universale di unità per tutti i cristiani. E il prossimo incontro a Gerusalemme col patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, già presente alla celebrazione ed inaugurazione del pontificato, ne sarà certo conferma. Da parte loro, gli eredi della riforma guardano a lui con sintonia speciale, per quel soffio di Vangelo che si avverte in tutto ciò che fa e dice, e che può essere la vera sorgente dell'unità di tutti i discepoli di Cristo. Liberate le 12 suori di Malula, la TV Al-Arabia aveva già annunciato il rilascio, le religiose in viaggio verso Damasco. Il 9 marzo scorso sono state liberate le 13 suori ortodosse, rabbite il 2 dicembre scorso al Malula, in Siria. Già in mattinata si era acceso un barlume di speranza, grazie ad alcune voci sulla loro liberazione imminente, per via di un tweet della TV Araba. La notizia però non aveva inizialmente trovato conferma. Seppur gli attivisti antigovernativi della regione di Qualum, attraverso il loro portavoce Amer Qualamomi, avevano comunque annunciato, i negoziati sono ancora in corso, le sue ore potrebbero essere liberate oggi stesso o tra qualche giorno. L'annuncio della liberazione e di un accordo raggiunto con i ribelli è stato diffuso ancora dall'emittente Al-Arabia e confermato anche dall'emittente libanese Al-Majadin. Le 13 religiose erano state sequestrate all'inizio di dicembre scorso dai combattenti islamisti della Jabhat al-Nusra, nel convento di Martekla, insieme ad altre tre ragazze e loro ospiti. Un filmato diffuso poi il 6 dicembre dal Jazira aveva confermato che le donne erano detenute a Yabrud, un villaggio nella zona nord-est di Damasco, vicino al confine di Libano. in mano ai ribelli. Nel video le sue ore appadivano in buona salute, con indosso i loro abiti religiosi, senza il tradizionale crocifisso, e negavano di essere state rapite, ma solo messi in sicuro. Dopo mesi di silenzio, si erano perse le speranze di un loro ritrovamento. Poi erano stati diffusi altri filmati, in cui i rapitori chiedevano in cambio della liberazione delle sue ore la libertà per tutte le donne prigioniere della Siria e di tutti i prigionieri politici. Le richieste sono state via via aumentate, fino a chiedere provvedimenti alimentari per le città sotto il dominio dei ribelli e l'allontanamento dell'esercito dai luoghi religiosi cristiani. Due giorni fa, infine, la notizia è che il gruppo di negoziatori che si occupava della liberazione delle religiose aveva perso i contatti con i ribelli, che con ogni probabilità hanno trasferito le monache in un nuovo nascondiglio. Secondo alcuni media del Libano, le 13 donne potrebbero trovarsi anche ad Arsal, un villaggio libanese controllato dai combattenti contrari al regime siriano di Bashar al-Sad. La chiesa caldea in soccorso degli sfollati di Fallujah e Ramadi. Baghdad, una rappresentanza di alti responsabili e volontari della chiesa caldea, guidata dal patriarca Luis Rafael Saco, si è recata nelle aree della capitale irachena, dove hanno trovato rifugio gli sfollati della città di Ramadi e Fallujah, portando con sé aiuti e beni di prima necessità da distribuire tra la gente fuggita dalle proprie case, da quando, lo scorso gennaio, le due città sono cadute sotto il controllo delle milizie legate ad Al-Qaeda. L'iniziativa di solidarietà ha avuto luogo domenica 9 marzo. Il patriarca Saco, accompagnato da alcuni stretti collaboratori, compreso il suo vescovo ausiliare Sleiman Warduni, ha preso parte alla distribuzione di alimenti, coperte, medicinali e vetovaglie, esprimendo in questo modo solidarietà concreta ai rifugiati e auspicando che lo Stato torni presto a esercitare il proprio legittimo controllo su tutto il territorio nazionale, così da proteggere i cittadini e prendersi cura di loro. Il gesto di solidarietà, ha voluto aggiungere il patriarca Saco, rispecchia veramente l'unità nazionale e lo spirito di cittadinanza che ci lega gli uni agli altri. Le nostre case e le nostre chiese sono aperte a tutti, ora che siamo nel tempo di quariesima. I destinatari dell'intervento di soccorso guidato dal patriarca Saco appartenevano tutti a gruppi familiari musulmani. Dall'inizio di gennaio 2014, i gruppi armati antigovernativi, compresi le formazioni jihadiste dello Stato Islamico dell'Iraq e dell'Evante, controllano Fallujah e alcuni quartieri di Ramadi, città che si trovano soltanto a 60 e 100 km a ovest di Baghdad. Passiamo ora ad alcuni avvisi. Ogni venerdì di quaresima nel nostro santuario lo colpio esercizio della via Crucis, una prima volta alle ore 17 e 15, una seconda volta alle ore 21. Una novità quaresimale di quest'anno, ogni lunedì a partire dal lunedì 10 marzo, dopo la Messa della Sera, quindi intorno alle 18 e 30, avrà luogo il quarto d'ora della fede. C'è approfondimenti sui testi della liturgia della domenica precedente e più in generale sulla vita cristiana, guiderà la riflessione Padre Tarcisio Magia. Ricordiamo ancora una volta che il giovedì di ogni settimana nella nostra chiesa ha luogo l'adorazione accaristica del Santissimo Sacramento, esposto continuativamente tutto il giorno, dalle 9 e 30 alle ore 17. L'adorazione si propone di chiedere al Signore il dono di numerosi e santi sacerdoti religiosi per la sua chiesa, in particolare per il nostro ordine cappuccino. Ci rivolgiamo ancora una volta a tutti voi, perché vi vogliate contribuire, se potete, a riempire la bisaccia di Fra Nicola per l'aiuto ai poveri, perché attualmente è vuota. Grazie. Il nostro Tg si conclude qui e vi lasciamo augurandovi pace e bene.